Estorsioni tramandate di padre in figlio, uno scenario inquietante che si è sviluppato a Ottaviano dove per dieci anni un imprenditore è stato taglieggiato dal clan Fabrucino i cui esponenti si sono passati come in una staffetta le vessazioni nei confronti dell'uomo. La vicenda è emersa portando a tre arresti anche grazie alla denuncia della vittima che aveva subito una rapina nel suo esercizio dieci minuti dopo aver pagato la rata del pizzo al suo attuale persecutore. La rata mensile che all'inizio dell'estorsione anno 2001 era di 700.000 lire nel 2011 era arrivata a 2.000 euro. Il primo responsabile dell'imposizione fu Luigi Antonio Bonavita, storico referente del clan scomparso nel 2004 probabilmente per un regolamento di conti. In seguito la gestione dell'estorsione fu assunta da Francesco Cozzolino e Giuseppe Caliendo finito in manette quest'ultimo ci fu l'ulteriore passaggio di testimone nelle mani del FII Giovanni Caliendo che aumentò pressione e minacce sulla vittima. A far traboccare il vaso spingendo l'imprenditore alla denuncia fu la sua goccia di una rapina subita dall'uomo nel suo esercizio in pieno giorno, pochi minuti dopo il passaggio di Caliendo Junior per riscuotere la rata che in teoria avrebbe potuto garantirgli la protezione e proprio mentre il suo aguzzino voleva imporgli un ulteriore aumento del pizzo. Le indagini hanno fatto finire in carcere Francesco Cozzolino e Giovanni Caliendo il cui padre Giuseppe, destinatario di un'ordinanza per questa vicenda, era già in carcere per altre vicende.